Buongiorno a tutti, siamo al secondo degli incontri delle storie del design di quest'anno e un ciclo dedicato ad altre discipline del mondo del design rispetto a quelle che abbiamo già analizzato. Allora, food design, due mondi che si guardano, due mondi che si studiano, che si cominciano a conoscere sempre più da vicino. Devo dire che quando io penso al termine food design venendo dal mondo del design, le prime cose che mi vengono in mente sono la bottiglietta del Campari degli anni 30 disegnata da Fortunato De Pero, mi vengono in mente le bellissime pagine scritte da Bruno Munari quando raccontava la sua filosofia di progetto e leggeva le arance come se fossero delle forme di packaging naturale. e mi vengono in mente per esempio i tanti designer degli anni zero che hanno utilizzato il cibo come un materiale proprio per fare progetto e che sono stati radunati in una bellissima mostra nel 2015 da Beppe Finessi, una mostra che parlava proprio della forma del cibo. In realtà negli ultimi anni invece molte cose stanno cambiando proprio anche nell'approccio da parte del mondo del design verso quello del food. Cioè ci stiamo rendendo conto che è necessaria una piccola grande rivoluzione copernicana, cioè passare da quell'idea di food design come design del prodotto alla dimensione del design dei sistemi. perché effettivamente moltissimo è stato fatto nel campo del food soprattutto in termini di strategia e di comunicazione e da questo punto di vista altri campi del progetto possono imparare moltissimo. Basti pensare che appunto solo tre anni fa c'è stata la grande expo di Milano e abbiamo guardato sempre più all'interno proprio di quelli che sono i sistemi, i processi che vengono generati dal mondo del cibo. Dieci anni fa penso che se dicevamo in giro DOC, DOP, IGP, nessuno a parte gli addetti ai lavori sapeva di che cosa stavamo parlando. Adesso nelle scuole elementari i bambini lo sanno. Questo è grazie soprattutto ad un gigantesco lavoro che fanno gli addetti ai lavori nel mondo del food al quale veramente noi guardiamo con estremo interesse. Per addentrarci in questa rivoluzione, in questo cambiamento di prospettiva abbiamo chiesto a Nerina Dinunzio di farci da guida essendo lei un'esperta del settore, oltre a essere direttore dell'Istituto Europeo di Design di Roma ha inventato un blog, una formula molto efficace ed intelligente, Food Confidential, i segreti del cibo proprio per riuscire ad arrivare al grande pubblico nello spiegare delle dinamiche che sono proprio di questo mondo. E quindi abbiamo chiesto appunto a Nerina di introdurci, di farci capire come oggi si muove il mondo del cibo e lei a sua volta ha invitato un grande protagonista come Nico Romito che davvero a proposito di rivoluzioni sta facendo delle cose incredibili ma il piacere di presentarlo nel dettaglio lo lascio direttamente a lei. Grazie. Grazie Domitilla Dardi, un applauso a Domitilla al lavoro che fa qui al Maxi e anche allo IED perché io l'ho coinvolta nel postgrado, nei master. Intanto grazie davvero a Domitilla Dardi e al Maxi per darci la possibilità di parlare di Food Design che al momento credo sia il tema più misunderstood, più frainteso che c'è sul panorama dei media. Forse proprio a causa di un'informazione sbagliata data dai non addetti ai lavori però chi sono gli addetti ai lavori? A questo proposito ho pensato di invitare qui un mio amico, un cuoco come si dice oggi uno chef, mi preme dire da subito che lui è un cuoco autodidatta quindi vorrei che voi teneste in considerazione questo inizio che oggi è appena rientrato da una conferma importantissima quindi il premio più ambito dal mondo della ristorazione che sono le tre stelle Michelin signore e signori Nico Romito Grazie Allora partiamo dalle definizioni La leggiamo tanto la state leggendo anche voi Food Design è la progettazione degli atti alimentari quindi i food facts, gli atti alimentari ovvero l'attività di elaborazione dei processi più efficaci per rendere corretta e gradevole l'azione di esperire una sostanza commestibile dove? In un dato contesto, ambiente o circostanze di consumo se resistete a non arrivare alla fine del resto della definizione vi chiedo di concentrarvi su queste prime tre righe quindi noi abbiamo tutto quello che riguarda il design in questo paragrafo e tutto quello che riguarda il cibo perché nell'atto di consumare il cibo c'è comunque un attore, un consumatore e nel design ci sono le due istanze estetica e funzionale quindi in questo primo paragrafo capiamo che il food design si occupa di chi mangia dove mangia, come mangia, cosa mangia rispetta che tutto questo sia corretto e per corretto intendiamo naturale, sostenibile, salutare anche proporzionato, poi entreremo sempre di più nel dettaglio ma la vera chiave è che sia anche piacevole, gradevole quindi l'istanza della bellezza sopra ogni cosa il food design prende in analisi i motivi per i quali compiamo un atto alimentare le ragioni, per questo momento, questa lezione si chiama le ragioni del food design perché lo fa per meglio comprendere come progettarlo e soddisfare in maniera adeguata l'esigenza del cliente, dell'utente il food design si occupa di prodotti edibili comunicazione, packaging, servizi, luoghi legati alla vendita e al consumo di cibo tutto chiaro? mi piacerebbe un po' l'interazione se poi volete andremo avanti adesso voglio passare subito la parola a Nico partendo da un'immagine che è l'immagine del quartier generale della sua storia io non ho detto molto di lui perché nel percorso che faremo questa mattina racconteremo ovviamente la sua storia Nico ci darà il fil rouge della sua storia che poi è anche la sua vita io ebbi la fortuna di fargli una recente intervista dove lui ha fatto un giro immenso effettivamente dall'Abruzzo oggi in tutto il mondo è tornato da poche ore da New York, Milano, Tokyo e lui ha espresso un desiderio quello di tornare a casa cioè di stare nel luogo da dove ha iniziato il suo viaggio e trovo che sia molto molto bello questo quindi la prima domanda rispetto alla definizione che abbiamo dato di food design partiamo dall'ambiente del consumo cioè da dove questo atto alimentare avviene e chiedo a Nico qual è intanto cos'è questo posto e che tipo di esperienza in questo luogo chi viene a casa donna può sperimentare e come hai progettato l'esperienza buongiorno a tutti e grazie che siete qui faccio una premessa che quando Nerina mi ha chiamato mi ha detto andiamo a parlare insieme del food design e ho detto non sapevo neanche io la definizione che avete letto del food design quando l'ho letta ho detto ok allora vengo perché c'è tanto si parla molto di cibo ma soprattutto di contestualizzare il cibo in degli ambienti e di creare un'esperienza totalizzante partendo dal cibo e quindi poi ragionando sulla definizione di food design ho detto ok ho tante cose da raccontare e tanti progetti fatti che rientrano nel concetto di food design allora sono venuto perché già io parlare in pubblico preferisco più fare un piatto e fare 200 persone che parlare a 200 persone mi piacciono molto di più i contenuti gastronomici che narrare le cose che faccio quella che vedete è casa donna casa donna è una struttura del 1510 è un ex monastero che sta a Castel di Sangro all'interno della riserva della Maiella e io acquisto casa donna io e la mia famiglia acquistiamo casa donna nel 2007 iniziamo i lavori di ristrutturazione nel 2009 e apriamo nel 2011 io inizio la mia attività come cuoco a Rivisondoli a 10 chilometri da Castel di Sangro un paese di montagna e il ristorante mio era molto molto piccolo aveva un ristorante di 45 metri quadrati di sala e una cucina adeguata al numero dei coperti e soprattutto il reale a Rivisondoli nasceva con mio padre e con l'idea di fare una trattoria un'osteria dedicata al turista che veniva su a sciare l'inverno a soggiornare in montagna quindi inizio la mia esperienza da autodidatta perché io non ho studiato non ho fatto scuola alberghiere non ho avuto esperienze in grandi in ristoranti, in grandi scuole di grandi cuochi e inizio nel 2000 quindi partendo da zero e iniziando a capire che cos'era questo mondo a capire che cos'era il mondo del cibo ma della gastronomia con la parola gastronomia intendo a 360 gradi l'esperienza del cibo e io e mia sorella iniziamo da zero quindi partendo da una trattoria di montagna per poi più studiavo più crescevamo più capivamo dove volevamo andare iniziamo a modificare il ristorante e l'offerta gastronomica io ho sempre lavorato abbiamo sempre lavorato in parallelo cresceva il ristorante ci rendevamo conto che il locale e l'architettura del locale non era più adeguata alla nostra crescita personale alla nostra idea di cucina e quindi il reala revisione l'ho ristrutturato in nove anni l'abbiamo ristrutturato tre volte a un certo punto ci eravamo resi conto che non potevamo far più niente troviamo questo posto meraviglioso a Castel di Sangro che era completamente abbandonato iniziamo un lavoro di cambio di destinazione d'uso e ristrutturazione e Casa Donna nasce perfettamente come lo volevamo quindi come volevo questo posto volevo un posto che avesse la stessa identica coerenza rispetto ai miei piatti rispetto al cibo e soprattutto rispetto al linguaggio del gastronomico perché il cuoco declinato in una certa maniera era facendo un determinato tipo ragionamento usa un linguaggio quando cucina quindi il mio linguaggio è una cucina molto essenziale è una cucina che non cerca orpelli è una cucina che va al cuore del prodotto che cerca di non stupire a livello visivo a fare in modo che la materia una volta trasformata diventa l'estetica stesso del piatto e quindi una cucina dove non ha più sovrastrutture e addirittura pure sulle ceramiche io ho lavorato ho cercato sempre queste ceramiche che non avessero addirittura non avessero neanche il bordo fossero quasi quasi del dei piatti completamente piatti senza bordo dove il cibo diventa il protagonista assoluto quindi questo lavorare sul bianco lavorare sulla sulla purezza e quindi abbiamo abbiamo disegnato la sala ristorante perfettamente eccola qui perfettamente come una scatola bianca io ho avuto la fortuna di poter riuscire a fare casa donna tutto quello che noi volevamo a livello architettonico quindi non ho avuto dei vincoli e ho avuto la possibilità pure di crescere con degli spazi quindi sia lo spazio cucina sia gli spazi tecnici e la ristorazione li abbiamo disegnati in base alle nostre esigenze quindi non mi sono adeguato al luogo mi sono adeguato al luogo per lo spirito del luogo la filosofia il rispetto della storia infatti come vedete i materiali che abbiamo utilizzato e questo pavimento che è un pavimento di oltre 300 anni di 300 anni fa di una vecchia chiesa sconsacrata e questo è muro completamente bianco pure lì questo lavoro sul bianco ma non è un bianco freddo è un bianco dove risponde un po' al luogo abbiamo lavorato con delle calci delle cere d'api e quindi è un bianco stratificato un bianco che ha tanto di calore e da lì pure i tavoli guardate il lavoro sui tavoli quasi togliere completamente la tovaglia eppure sulle luci la luce abbiamo una luce tecnica sul tavolo in modo che perché tutto questo sto dicendo perché per me importante è il piatto cioè il cibo quindi chi si siede nella sala ristorante non è distratto da nessun'altra cosa ed è protagonista il focus principale il piatto illuminato in un certo modo e quindi la coerenza tra quello che mangia e quello che è l'ambiente per me è fondamentale perché poi è dal cancello stesso cioè chi arriva a casa donna meno male che non era uno che non parlava molto aspetta resta dal cancello lui ha detto che la materia prima del piatto è l'estetica stessa la materia prima è l'estetica stessa del piatto e sta parlando adesso della sala ristorante tornando alla definizione di food design che ho dimenticato di dirvi che è stata scritta e voluta dall'ADI l'associazione del design industriale in particolare dalla food commission di cui io anche faccio parte ed è stata poi sottoscritta da 300 sottoscrittori le sottoscrizioni sono aperte quindi potete andare sul sito di food design manifesto perché gli chef sono designer e sono food designer perché una sala così pensata con le esigenze che Nico ci ha descritto la può pensare solo un food designer non basta l'architetto ora qui possiamo fare una rivoluzione ma prima con Nico parlavamo di questo l'architetto molti di voi sono architetti molti di voi sono interior designer ha tutte le capacità e le competenze per realizzare un format ristorativo una sala ristorante la risposta è sì ma cosa deve sapere deve conoscere la filosofia deve conoscere il tipo di cliente che raggiungerà quel luogo deve conoscere quello che ci sta dicendo Nico Nico fa ruotare tutta la sala intorno al piatto perché non è ammessa nei confronti del cliente la distrazione da questa conversazione che lui sta attuando nel momento in cui arriva il piatto per chi c'è stato è molto chiaro l'attenzione i cinque sensi il desiderio del commensale è rivolto al piatto l'ambiente ti accompagna ti tiene tra le sue braccia ti scalda ma non ti distrae tra l'altro senza i piatti c'è una monocromia nell'ambiente l'arrivo del piatto crea un concerto quindi di concerto si armonizzano i colori questo è il food design e a proposito di chi sono gli addetti ai lavori io approfitterò di questa lezione per dirvi che noi all'OIED abbiamo un master in food design ma non per fare uno spot perché c'è necessità di food designer c'è necessità di evitare il misunderstanding c'è necessità di progettare qualcosa per chi vuole fare un'esperienza reale a tutto tondo e tra l'altro Nico è stato anche incastrato in questo master ora vedremo se la lezione si svolgerà in qualche città del mondo a casa donna però Nico sarà dei nostri allora andiamo avanti vuoi dire qualcos'altro volevi parlare dell'ingresso queste sono le stanze quindi l'esperienza è completa si può rimanere per pochi però si può rimanere aspetta piatti vuoi parlare del cancello o vogliamo parlare dei piatti il cancello era interessante perché volevo dire dal cancello stesso che si inizia l'esperienza cioè per me la coerenza deve essere totalizzante cioè dal cancello a come viene accolta una persona a come viene portata in camera questa persona a come viene servita la mattina a colazione perché oggi io quando ho iniziato casa donna mi sono chiesto perché io quando faccio le cose cerco sempre di mettermi nei panni del cliente che si siede a tavola e cerco di togliermi un po' dall'equazione di cuoco cioè pure quando faccio un piatto e dico perché dovrebbe piacere questo piatto perché dovrebbe essere casa donna ma soprattutto perché io devo fare 300 chilometri per venire a casa donna se da Roma penso e ci voglio due ore e mezza per venire a casa donna io allora prendo un compasso metto 250 chilometri e faccio un cerchio ci sono tantissimi posti che uno può visitare quindi per creare la motivazione per fare in modo che casa donna diventi destinazione io devo creare un'esperienza l'esperienza più l'esperienza ha identità e secondo me più noi abbiamo capacità di attrarre a prescindere se è buono o non è buono la mia cucina può piacere o non può piacere però io cerco sempre di trovare un'identità l'identità è la mia cioè la cosa più difficile nel mondo della cucina ma credo in tutti i settori è avere un'identità ben chiara avere una spina dorsale di gastronomica che ti dice chi mangia quel piatto lo riconosce e se lo mangia da 300 chilometri dice ma questo è un concetto che ho già visto cioè quindi riuscire a dare un linguaggio chiaro ma soprattutto un linguaggio unico quella è la cosa più difficile per chi fa cucina a prescindere poi come ho detto prima mi piace di più quel piatto o mi piace di più quell'altro piatto sempre nella slide successiva c'è un piatto che oggi mi rappresenta molto ed è in apertura del menu degustazione forse dalla foto se non lo spiego si capisce poco questo piatto in carta è chiamato cavolfiore arrosto è un lavoro incredibile lungo ci abbiamo messo quasi un anno ma un anno più i 18 anni di esperienza per arrivare a questo piatto perché mi rappresenta perché innanzitutto è un piatto che nasce con un unico ingrediente e io amo il concetto come vi dicevo dell'essenzialità di far diventare con un unico ingrediente un piatto completo ed è molto difficile quindi tutto quello che vedete dalla salsa la glassatura la struttura del cavolfiore la parte bassa che adesso qua forse si vede la parte più scura è tutto cavolfiore 100% mi rappresenta molto perché oggi la mia cucina sta andando più su quella direzione cioè una cucina che vuol raccontare la verità della materia prima vuol raccontare qualcosa di di comune cioè mi piace molto che chi mangia la mia cucina riconosce quello che mangia perché gli ingredienti che io utilizzo sono ingredienti che mangiamo tutti i giorni e là gioco a nudo proprio non posso fare errori perché questo cavolfiore questo cavolfiore è così è nudo lavorato lì quindi se uno mangia e conosce il cavolfiore deve per forza mangiando questo piatto deve comunque riconoscere ma deve provare qualcosa in più ecco perché mi metto molto in discussione deve emozionarsi da un cavolfiore io ricordo quando ho iniziato questo lavoro sui vegetali era il 2013 2014 e ho servito a tavola un carciofo nel piatto bianco questo carciofo con tre gocce vicino che era un estratto di rosmarino mi ricordo sono arrivate le prime critiche arrivavano senza che nessuno l'avesse mangiato perché spesso la cucina la critica si basa più sulle fotografie che sul concetto proprio di di esperienza che sono mangiando il piatto e mi dicevano io ho appena preso le tre stelle e mi dicevano eh ma io vado in un ristorante per mangiarmi un carciofo perché il vegetale soprattutto il vegetale più comune come una verza come un carciofo come un cavolfiore era molto utilizzato per il per come contorno noi invece ho voluto cercare ho voluto dare più forza a questi vegetali e soprattutto rimetterli al centro di una tavola quindi farli diventare protagonisti assoluti di un piatto oggi è bello vedere che tanti giovani stanno facendo questo lavoro e quindi questo cavolfiore se ve lo vedete è puro è essenziale però dietro a questa purezza c'è un lavoro di e molti qualcuno lo definisce è una cucina di sottrazione io invece vi dico che è una cucina di addizione perché in questo piatto io ho lavorato stratificando varie salse varie glassature varie laccature di cavolfiore quindi stratifico sapore su sapore lo stesso colore per arrivare a un cavolfiore diverso rispetto a come noi siamo abituati a mangiarlo lo riconosciamo ma capiamo che c'è stato un lavoro ma sicuramente c'è una complessità gustativa diverso da un cavolfiore comune adesso questo cavolfiore che mi è venuta una fame pazzesca rappresenta un altro concetto di food design intenso diciamo molto molto radicato molto importante la materia prima qui è la protagonista d'accordo la sua espressione c'è l'espressione di Nico quello che Nico vuole dirci è protagonista e lui ha continuato a dire la cosa che mi rende felice se riconoscono il piatto quindi se il piatto è lo stesso quindi di cosa stiamo parlando di riproducibilità però attenzione abbiamo il tema della materia prima la materia prima è viva è stagionale raggiunge un grado di maturazione quindi qual è la critica che mi fanno quando io dico che lo chef è un food designer mi dicono magari il cavolfiore che io mangio a casa donna da Nico è diverso dal cavolfiore che io mangio a Tokyo da Nico o in un'altra città e no perché comunque lo chef quindi il cuoco quindi Nico e tutti quelli che come lui fanno processo e progetto sceglie il prodotto alla sua massima espressione quindi noi avremo lo stesso identico piatto in due città diverse faremo la stessa esperienza andando da Nico Romito Tokyo da Nico Romito casa donna tra l'altro anche in assenza di Nico Romito perché la sua squadra ripeterà il piatto che deriva da un progetto nello stesso identico modo c'è un libro bellissimo molto difficile però in sostanza basta leggere i riassunti ed è quello di Levi Strauss che non è quello dei Blue Jeans ma è un altropologo sociologo che ha scritto questo dal crudo al cotto quindi è la strada che percorrono gli ingredienti le materie prime e il momento più alto di espressione della materia prima è attraverso la cottura ma la cottura scelta per quella materia in modo che la materia possa esprimere le sue proprietà organolettiche vale a dire che c'è qualcosa che è meglio cruda qualcosa cotta qualcosa stracotta qualcosa marinata questo processo non è Nico non è lontano da questo concetto cioè il cuoco mentre ragiona sulla materia prima non fa della materia prima quello che vuole la rispetta quindi sceglie la tipologia di cottura ed è anche questo progetto perché lascia che la materia prima si esprima alla sua massima potenza e che sia edibile perché è nato il fuoco perché l'uomo ha cominciato a utilizzare il fuoco per digerire perché era molto complicato mangiare la carne cruda per esempio però non voglio andare molto oltre però ritornando al nostro discorso il design è riproducibile in assoluto sì perché noi diciamo che è riproducibile a livello industriale il piatto di Nico Romito è riproducibile assolutamente sì identico così come lo fa in ogni luogo o come lo fa la sua abbricata le persone che condividono la sua filosofia sei d'accordo Chef? Sì sono d'accordo sul concetto di riproducibilità e di standardizzazione dei modelli cioè ma prima di oggi mi ricordo un po' di tempo fa mi avevano chiesto che tipo di di professione si poteva avvicinare il mio lavoro il mio lavoro proprio il lavoro di Nico come chi poteva assomigliare e a me è stato facile rispondere un designer cioè anche a prescindere dal reale a casa donna per tutto il lavoro che sto facendo negli altri negli altri attività e mi ricordo mi hanno chiesto perché perché credo che il lavoro che faccio io è un lavoro importante di ricerca di ricerca sul sul dar delle risposte in base alle attività dove sto sto operando e poi ne vedremo alcune a partire da cibo da strada ospedale e ristorazione del mezzo o reale ho avuto sempre questa fissazione quando cucino la prima cosa mi chiedo sempre il perché cioè perché una carne si cuoce perché si trasforma perché cambia la sua struttura chimica e fisica perché perde liquidi e sono arrivati a delle risposte ma studiando ma studiando e collaborando con dei docenti importanti cioè tutta la parte chimica e fisica io avendo la fortuna di avere all'interno di Casadona una scuola sono circondato da dei docenti universitari e quindi ho fatto un lavoro importante mi ricordo quattro anni fa sulla carne cioè perché la carne si cuoceva e tutti i vari collassi proteici sulla carne a un certo punto studiando in profondità ho iniziato a standardizzare il processo cioè quando vi faccio degli esempi più semplici quante volte a casa diciamo la mamma la nonna l'amica dice ho cotto l'arrosto questa volta è uscito più asciutto dell'altra volta e iniziamo a dirci iniziamo a dire il forno era troppo alto la carne il macellaio questa volta non ci ha dato la carne buona una serie di domande però c'è un motivo chimico e dopo di conseguenza un motivo fisico quando la carne si asciuga perché vuol dire che io ho superato una temperatura al cuore sto facendo collasso proteico denaturando le proteine a un certo punto le proteine voi immaginate che le proteine sono come dei fili di lana quando iniziamo a cuocere queste proteine i fili di lana si uniscono come un gomitolo si uniscono e iniziano a premere tra di loro tra i fili di lana c'è dell'acqua quando più alzo la temperatura del cuore del prodotto più questi fili si stringono si crea il gomitolo e l'acqua viene espulsa a un certo punto quando la carne è asciutta io ho superato i 70 gradi di cuore del prodotto con l'asso proteico degenerato ho perso tutti i liquidi quindi quando ho iniziato a fare questi ragionamenti mi ricordo avevo fatto un'intervista lunghissima su una rivista Wired e parlavo di parecchi anni fa e avevo detto il segreto non è a che temperatura cuocio l'arrosto ma a quanti gradi porto l'arrosto perché io posso anche cuocere un arrosto sapendo che il punto di rottura il break even è 70 gradi io posso cuocere l'arrosto anche a 60 gradi quindi la signora mette l'arrosto a 60 gradi siamo sicuri che quell'arrosto non andrà pure se sta 12 ore in forno sto lavorando un po' anche per paradossi così capite 12 ore in forno non sarà mai asciutto perché non ho superato i 70 gradi quindi questo è far capire come ho ragionato in questi anni quando costruivo un piatto però con tutti questi ragionamenti e mettendo nero su bianco tutta questa ricerca ho iniziato a pensare che questo lavoro di ricerca potesse essere applicato su concetti più facili di ristorazione quindi riuscire ad andare dall'alto verso il basso quindi dalla ricerca a iniziare ad andare su modelli di largo consumo e standardizzare i processi di cottura e da lì nasce il concetto di ripetibilità il concetto di standardizzazione ma soprattutto il concetto del designer di una volta che ha progettato quella sedia e l'ha fatta in maniera ergonomica con quei materiali poi decide lui il livello di posizionamento di quella sedia nei vari mercati però una volta che ha deciso quella sedia deve essere ripetibile in tutto il mondo con gli stessi standard allora lì stiamo facendo qualità per tutti e stiamo portando la ricerca a livelli più bassi applauso ci sono altri piatti qua bellissimi dove si potrebbe però andiamo avanti perché ho visto che c'è poco tempo che ora sono le 12 e un quarto e Nico diceva ho la fortuna la fortuna nel senso che l'ha pensata progettata e voluta di avere un'accademia l'accademia Nico Romito dove giovani chef riescono poi a giovani cuochi a fare a iniziare il loro percorso e cosa si è inventato in uscita di questa accademia a rivisondoli la possibilità quindi esattamente lo stesso procedimento del del design inteso la prototipazione quindi cosa fanno i cuochi finiscono il corso da nell'accademia e vengono immediatamente proiettati in un ristorante vero e proprio non con degli attori ma con dei clienti che vanno a mangiare da loro e quindi loro si mettono in azione sperimentano tutto quello che hanno già appreso nelle cucine nelle classi dell'accademia e lo fanno all'interno di questo ristorante che si chiama Spazio Rivisondoli e questo fu l'idea di Nico fu molto interessante rispetto al nostro punto di vista di designer e food designer perché iniziò il misunderstanding cioè il cliente che andava si aspettava un ristorante io vado pago pretendo i ragazzi erano dei ragazzi diciamo in nuce all'inizio che iniziavano a fare il cuore della loro attività quindi era un ristorante sì vero e proprio aperto al pubblico sì ma era anche un laboratorio quindi quello che ha dovuto fare Nico con il suo staff è spiegare alle persone che c'era una conversazione che si instaurava su questo livello cioè chef senza esperienza ma con un grande corso alle spalle che tentavano con grande perizia di fare la vera ristorazione da qui però la cosa ha funzionato così tanto perché i clienti si sono trovati così bene e i ragazzi sono stati così bravi che spazio è cambiato lì è rimasto è rimasto quello che era alla nascita mannaggia che vabbè meglio di no perché è mezzogiorno e mezzo e spazio è diventato qualcos'altro ed è diventato un format è diventato un luogo ed è diventato un format che si adatta alla città nella quale si trova ti è successo quasi spontaneamente è successo spontaneamente la vocazione del luogo poi combacia con quella del territorio della città che lo aspetta è nato il primo spazio a Italy ma lascio a Nico il racconto si spazio nasce a Rivisondoli nel 2015 5 agosto 2015 io non mi ricordo le date di nascita dei miei genitori della mia famiglia di tutti però mi ricordo le date di nascita delle aperture e e ricordo l'idea di spazio viene a luglio quindi noi abbiamo aperto spazio nel giro di 30 giorni perché dopo che abbiamo finito il secondo corso a scuola e io ho questa scuola sempre all'interno di Casa Donna e ricordo il corso era di 12 ragazzi e durante l'elezione dicevo vabbè adesso loro finiranno ma che faccio con loro li mandiamo sempre a fare lo stage presso i ristoranti come bene o male il modello formazione che avevamo già delle altre scuole di cucina però non ero soddisfatto perché volevo che l'esperienza per loro fosse più importante ma fosse sicuramente facendo il cuoco credevo molto che la responsabilità di gestire qualcosa in prima linea velocizzasse il processo formativo allora la fortuna che avevo l'ex ristorante reale a Rivisondo era rimasto così non era stato modificato niente dopo il trasferimento di Roma quindi avevo un ristorante di sana pianta perfettamente funzionante allora coinvolgo questi ragazzi in prima linea me lo ricordo era l'ultimo l'esame dopo l'esame tutti si aspettavano le varie destinazioni cioè quindi chi poteva andare da Tizio chi poteva andare da Caio allora finisco l'esame io gli dico guardate io ho avuto quest'idea ma da una settimana ho quest'idea e vorrei aprire un ristorante a Rivisondo gestito direttamente da voi e dobbiamo dobbiamo sistemarlo appena dobbiamo alleggerire perché dobbiamo dargli un contesto più fresco più giovane più laboratorio perché era per me era un'idea completamente nuova ma anche per loro quindi è stato bello anche che i primi sette giorni dieci giorni ognuno faceva qualcosa lì dentro mi ricordo c'era un ragazzo che aveva esperienze della falegnameria allora è iniziata a sistemare i tavoli un'altra ragazza si era laureata in architettura e aveva iniziato a colorare le pareti nero a scrivere le frasi del menu e delle frasi iconiche della scuola e così apriamo spazio quindi uno spazio dedicato a loro ecco da lì nasce il nome spazio non sapevamo come chiamarlo quindi spazio era spazio ai giovani cuochi spazio alla loro creatività spazio alla formazione anche spazio ai produttori ma anche spazio stesso ai clienti perché a un certo punto mi ero reso conto che spazio era diventato un luogo di formazione sia da parte dei ragazzi ma sia il pubblico che mangiava aveva determinati tipi di informazioni perché il servizio di sala era curato dagli stessi ragazzi quindi andavano a tavola e spiegavano perché quel caciocavallo era cotto così però raccontavano pure il produttore quindi stavano facendo una formazione verso il cliente spazio è partito subito molto bene è partito subito molto bene se i clienti erano entusiasti aveva dei prezzi non popolari ma il modello piaceva molto il modello di questo ristorante del menu un menu semplice però dove dietro c'era il lavoro di una scuola eppure ho iniziato a pensare che tutto il lavoro di creatività che si faceva a scuola doveva essere standardizzato doveva essere messo nero su bianco e non poteva essere lasciato alla creatività del ragazzo nel momento in cui stava in quella cucina la creatività la dovevamo mettere a monte nella ricerca del piatto dopodiché una volta che abbiamo stabilito che il caciocavallo doveva essere fatto così doveva essere ripetuto sempre così per alzare e per fare in modo che il livello qualitativo fosse sempre lo stesso pochi mesi passano e mi rendo conto che Rivisondor era un posto bello spazio bello però era molto stagionale molto dettato alla stagionalità allora decidiamo di portarlo in città di portarlo a Roma caso vuole che in quel periodo Farinetti aveva il ristorante sopra Italy e mi telefono lui non sapeva nulla di spazio e mi chiede se gli dava una mano al far partire quel ristorante allora gli racconto spazio lui viene a casa donna vede spazio ma nel giro di neanche una nottata decidiamo di far quest'operazione quindi apriamo spazio Roma passa un anno apriamo spazio Milano adesso è presente nel Duomo in galleria Vittorio Emanuele eppure lì decidiamo di mantenere gli stessi menu sia su Roma su Milano stessi menu stessi prezzi stessa ceramica stessa sedia cioè quindi iniziamo a creare il format che oggi la parola format si sente molto mi posso garantire quando ho iniziato io a parlare di spazio a creare un format a fare i piatti tutti uguali la mia categoria mi vedeva come qualcuno sta facendo qualcosa di strano oggi la parola format forse è pure abusata uno apre un ristorante e dice ho aperto un format almeno il format minimo secondo me deve prevedere due tre aperture se no non diventa format e piace molto questa formula lì però tutti i ragazzi io voi pensate a Milano e a Roma ho dei ragazzi che hanno fatto la prima apertura di Rivi Sondoli quindi non sono più giovani allievi quindi sono diventati professionisti da lì la scelta importante di far rimanere spazio Nicoromido formazione solo a Rivi Sondoli e modificare la comunicazione il logo l'immagine di spazio Roma e spazio Milano non so se c'è i marchi ecco ciò qui sotto il piatto c'è il primo marchio che giusto Chiara sì questo è spazio il primo marchio che oggi è cambiato ed è questo sì questo è il primo marchio che ancora arrivi Sondoli e con le parentesi poi a un certo punto io volevo fare in modo che spazio senza parentesi diventasse un ristorante non più gestito dai giovani allievi perché a Rivi Sondoli o dei ragazzi a Milano e a Roma sono persone oramai sono diventate professioniste quindi abbiamo tolto queste parentesi in modo di non lo chiudiamo solo all'accademia ma apriamo abbiamo tolto la parola formazione e abbiamo lasciato solo Nico Romito oggi spazio quindi è presente a Roma a Milano e a Rivi Sondoli tra l'altro lui mi offre diciamo lo spunto per parlare della formazione intesa come anche qui progetto perché i ragazzi ai ragazzi nell'accademia vengono insegnati dei criteri dei metodi la creatività dello chef è imprescindibile ma la cucina non è arte non lo sarà mai è un altro processo di interpretazione l'interpretazione della materia prima è il dialogo tra lo chef il cuoco e il consumatore non è l'espressione artistica to cure libera da qualunque orpello legame legge la cucina va codificata noi abbiamo io ho lavorato in passato anche al gambero rosso alla cucina italiana in condenasta a Milano in tempi non sospetti avevo tentato di fare una filiera di scuole di cucina anche insieme a persone più autorevoli di me per fare questo per descrivere la figura del cuoco italiano e per codificare qualche ricetta intanto premessa breve la cucina italiana che è una cucina povera rispetto alla cucina francese però è una cucina immensa non esiste un'unica cucina italiana e non è nemmeno la cucina dei campanili delle città perché da un paese all'altro basta attraversare la strada per trovare delle interpretazioni diverse di una stessa ricetta ma è addirittura una cucina familiare la melanzana la parmigiana che si mangia a casa mia è diversa dalla melanzana la parmigiana che si mangia a casa di Domitilla e noi abitiamo tutte e due a Roma e così via quindi il concetto di scuola che elabora Nico nell'accademia è un concetto nuovo non c'è più l'istituto alberghiero c'è un progetto si arriva alla fine del percorso a fare in un laboratorio esperienza reale questo laboratorio spazio questo laboratorio ha così grande successo i piccoli diventano grandi professionisti si apre davvero al pubblico quindi si levano le parentesi e si apre in diverse città e i tre format di spazio dove voi andrete a Milano a Roma a vedere cosa succede sono uguali ma diversi perché sono integrati nella città facciamo un passo successivo noi non mangiamo solo per piacere mangiamo soprattutto per nutrirci per stare al mondo per stare bene e a volte quando stiamo male dobbiamo essere ricoverati in ospedale e credo che l'esperienza cibo nell'ospedale sia la peggiore che uno possa fare a qualunque livello a prescindere dal tipo di malattia per la quale vieni ricoverato perché poi le malattie quelle che insistono anche sulla parte dell'alimentazione sono così complesse e non le voglio affrontare ma come si può visto che tu l'hai fatto in un concetto di progettazione ridisegnare una mensa ospedaliera ridisegnare un atto un progetto all'interno di un ospedale dal carrello che consegna le vivande alle vivande stesse ai vassoi a come raggiungere i degenti come si ripensa è stato un lavoro impegnativo e veramente difficile ricordo quando mi avevano chiamato il faccio il conto sì sì quando mi avevano chiamato dal mi avevano chiamato questa famiglia famiglia Miraglia famiglia molto importante che gestisce cliniche ospedaliere da tre generazioni mi avevano chiesto se volevo partecipare a questo progetto con determinati tipi di rispettare delle condizioni io ricordo che all'inizio le avevo detto guardate per me è impossibile non penso di farcela però come sono io che poi ci ragionavo sono molto ossessivo nelle cose e a un certo punto li ho incontrati questo tutto al telefono li ho incontrati e mi avevano chiesto di ridisegnare completamente l'offerta gastronomica di un loro ospedale il primo che esiste è stato il Cristo Re di Roma e avevo delle condizioni difficilissime la prima era la sostenibilità economica questi progetti funzionano solo se c'è una sostenibilità economica ricordo che non potevamo superare ma 4,80 euro di area giornaliera e questo è quello che meno male è la spesa giornaliera negli ospedali secondo il personale all'interno degli ospedali non è specializzato e questa è un'altra un'altra grossa difficoltà e terzi numeri perché parliamo di dobbiamo servire dai 200 ai 300 ai 400 pasti in mezz'ora in 40 minuti sui vari reparti che sono dislocati su vari piani quindi problemi di temperature problema di servizio problema dell'igiene dell'ASD delle preparazioni prima a questo punto ho iniziato a ragionare ho iniziato a fare delle prove delle prove di mi ricordo stavamo là con la bilancia la bilancia al grammo per rispettare il la sostenibilità il prezzo perché 5 grammi di più di olio su 800 pasti al giorno quindi parliamo di 240.000 pasti circa l'anno incidono tantissimo allora una prova importante l'ho fatto col pomodoro e c'è una foto eccola qui eccola io ricordo era andato all'interno dell'ospedale quando c'era ancora il vecchio procedimento e vedevo e la cosa che avevo notato era il pomodoro la cottura del pomodoro loro come cuocevano e come si cuoce in tutte le ristorazioni collettive ai miei perché forse uno dei più grossi problemi della ristorazione mondiale è la collettiva collettiva intesa non solo come ospedali ma intesa come menze università scuole aeroporti ovunque dove c'è collettiva e la collettiva nasce oltre per far mangiare bene il pubblico anche per far formazione voi immaginate in una scuola dove c'è una collettiva che sa lavorare bene gli ingredienti e si fa mangiare bene il ragazzo che ha dai quattro anni a salire quanta cultura stiamo facendo a livello gastronome su questo ragazzo quindi la collettiva poi è il luogo la ristorazione fa più numeri al mondo quindi immaginate non la vediamo solo dal punto di vista è buono o non è buono il valore sociale di una ristorazione collettiva fatta bene allora vedevo questo pomodoro e vedevo queste persone che cucinavano il pomodoro come a casa lo facevano perché da casa la mamma lo può fare io lo posso fare ma non è possibile in un ospedale dove stanno i pazienti malati cuocere il pomodoro come si fa in maniera comune quindi con sapori diversi ogni giorno ma con ossidazione ogni giorno con cambi in base all'operatore in quel momento che cucina o come si sveglia la mattina con i problemi personali li scarica poi sui 300 persone al reparto e questo è inaccettabile oggi allora il pomodoro loro mettevano il pomodoro nella pentola facevano bollire poi passava uno dopo un'ora un'ora e mezza due ore diceva secondo me è cotto assaggiamo il pomodoro si è cotto chi lo sa lo sai tu ma così si fa in tutte le collettive ma si fa anche nella ristorazione nella ristorazione è dettato troppo dal palato e dall'umore e dalla persona allora poi questo pomodoro veniva una volta cotto veniva raffreddato temperatura ambiente si metteva su una teglia si raffreddava poi si aspettava al servizio si cuoceva la pasta si condiva questo pomodoro e si serviva quel passaggio da caldo e freddo comunque crea carica batterica e crea ossidazione al prodotto un problema grandissimo su tutte le derrate alimentari che ci sono negli ospedali nelle collettive l'ossidazione del prodotto quante volte abbiamo visto queste verdure questi pomodori e altri vegetali che virano tutto in marrone questi spinaci immaginate negli ospedali chiunque di noi ha visto questi spinaci che oltre a stracotti cambiano il colore naturale verde dello spinaci allora sono rientrato a casa mi sono fatto dare lo stesso pomodoro mi sono fatto mandare gli stessi ingredienti che loro usano allora ho detto come faccio a standardizzare il pomodoro prima cosa devo fare in modo che questo pomodoro sia uguale a 360 giorni su tutti i reparti sia lo stesso sapore sia uguale che il pomodoro per se me lo standard e il riferimento e quel gusto deve essere uguale sempre non sia ossidato quindi mantenga un colore rosso oltre all'estetica che è importante per un paziente almeno se si mangia una pasta al pomodoro vede un bel colore rosso ma quel colore rosso è pure sinonimo di qualità perché vuol dire che non ho ossidato il pomodoro allora ho iniziato a lavorare con la mia conoscenza la mia tecnologia le mie conoscenze e ho cotto il pomodoro a temperature controllate a 110 gradi vapore per x minuti quel pomodoro ho iniziato a calcolare la percentuale di sale che andava in quel pomodoro quindi se un chilo di pomodoro 12 grammi di sale ho messo determinati tipi di odori quindi come vedete in trasparenza ho messo la cipolla e la carota il sedano lo potevo mettere perché è un elemento che non si può usare una volta cotto a vapore lo raffreddavo immediatamente in un recipiente con acqua e ghiaccio oppure se ho la possibilità con un abbattitore moderno che raffreddo e ho tenuto un pomodoro mantenendo la stessa la stessa derrata quindi lo stesso prezzo sicuramente che ha caratteristiche estetiche caratteristiche gustative caratteristiche salutari completamente diverse ma che è successo in questa operazione io non ho fatto riduzione del pomodoro cioè un chilo di pomodoro cotto come lo cuocio io non ha perso liquido mentre nella cottura tradizionale andando in riduzione ma riduzione soggettiva non oggettiva io pordevo da un 20 a un 30% di pomodoro ora un chilo di pomodoro il 30% sono 300 grammi 300 grammi moltiplicati per la quantità di pomodoro che si usa in un ospedale io ho fatto risparmiare all'azienda avevamo calcolato che solo sul pomodoro in questo ospedale io facevo risparmiare circa 28 mila euro solo su un prodotto 28 mila euro l'anno che è successo? che noi abbiamo abbiamo trovato un risultato che dava delle risposte di qualità delle risposte per migliorare proprio l'aspetto estetico del prodotto ma sicuramente era sostenibile questo però era possibile solo con la tecnologia tecnologia vuol dire avere dei forni che cuociono a quelle temperature che mi riescono a far standardizzare il processo cioè oggi l'operatore che sta al Cristo Re ogni mattina prende il pomodoro lo mette lo lavora con una formula che io ho definito quindi in quel momento io la mia creatività si è bloccata nell'istante in cui ho definito quel pomodoro dopodiché è diventato più macchina che produce tutti i giorni 50 kg 100 kg di pomodoro con lo stesso livello ecco qua il passaggio tra creatività processo standardizzato a standardizzazione e così l'ho applicato su quasi tutti le preparazioni però per fare questo ho fatto una richiesta io ho detto io accetto questo lavoro però voi dovete fare in modo che questa cucina la demolite tutta quanta e fate una cucina in base alle mie esigenze spendendo moltissimo perché la tecnologia costa allora ho detto possiamo spendere questi soldi come se io compro una TAC una macchina della TAC oggi costa quindi se noi facciamo diventare il cibo parte integrante della cura quindi cambia proprio l'approccio filosofico della ristorazione collettiva in ospedale immaginate che quella cucina diventa una macchina per far mangiare bene per curare meglio così loro sono stati lungimiranti hanno fatto abbiamo trasformato oggi se vedete la cucina del Cristo Re ha una tecnologia come quella del Reale e abbiamo iniziato questo lavoro cambiando completamente il paradigma ospedaliero questo era per rispondere a Domitilla Dardi perché Nico Romito perché Nico Romito per parlare del food design lui questo è il food design per chiarire e combacia con la descrizione e la definizione che abbiamo dato all'inizio e in più Nico ancora una volta lo ringrazio inserisce l'elemento cruciale del food design cioè il suo aspetto sociale il suo aspetto di sostenibilità vedrete nel manifesto del food design che nei dieci punti oggi sono diventati undici perché l'undicesimo punto è dedicato a delle persone che sono qui sedute che sono i nostri piccoli bambini i figli anche lei è una ragazza poi è arrivata Sonia Massari con la sua bimba e tra l'altro Sonia Massari insieme a me e a Francesca Tibollo condivide la frustrazione di tentare di spiegare al mondo che cos'è il food design quindi se c'è oggi lei qui vuol dire che ci siamo proprio tutti e il suggerimento di Nico nel suo racconto il food design non può non essere sostenibile deve esserlo deve essere sociale tutto quello che viene realizzato con quest'ottica di progettazione rispetta il pianeta rispetta i consumi rispetta i costi entra in un ragionamento anche il Reale Casadonna che avete visto il progetto da milioni di dollari è un progetto calibrato quindi tutto quello che riguarda il food design il progetto Reale Casadonna rispetta l'ambiente è integrato l'ambiente ha migliorato il parco della Maiella perché nell'inserimento degli orti nel lavoro della terra c'è anche un vino non vi possiamo dire tutto perché sennò sembra che facciamo che Nico Romito fa tutto ma in realtà fa tutto senti Nico abbiamo poco tempo perché volevo parlare di altre due cose oltre volevo parlare del pane perché secondo me il pane è come diceva Domitilla prima Munari ha trovato nell'arancia il progetto di food design perfetto il pane è perfetto tra l'altro nel meccanismo in cui tu hai cioè quello che ti sei inventato sul pane quello che ti sei inventato forse quello che il pane ti ha suggerito da solo nelle prove perché un'altra grande verità del food design è questi tentativi questa prototipazione continua quindi a un certo punto Nico Romito ha cominciato a fare il pane poi ha cominciato a conservarlo in un modo ad avere l'esigenza anche di portarlo altrove e che cosa è successo? Abbiamo aperto un'azienda di pane che mancava io ho avuto sempre passione per i lieviti i lievitati nasco da una pasticceria a 30 anni mio padre ha avuto una pasticceria e già rivisondoli prima di trasferirmi a casa donna facevo panificavo panificavo per il ristorante e facevo varie prove varie tentativi poi quando ho progettato la cucina di casa donna ho voluto uno spazio molto grande per per la panificazione noi oggi abbiamo 70 metri quadrati dedicate solo alla panificazione un ristorante di 7 tavoli 8 tavoli perché vedevo che per me per il mio ristorante il pane doveva essere un elemento cruciale un elemento importante una portata cioè non era sempre molto in generale nella ristorazione era sempre molto tangenziale questo pane cioè veniva sempre trattato non come protagonista nella tavola ma con qualcosa in più che ti metto a fianco al piatto e io volevo invece che forse per i miei gusti forse anche per oggi so perché però allora era istintiva la voglia di fare un grande pane un pane fatto bene allora ho allestito questo laboratorio mettendo il forno mettendo un forno a pietra lavorando con dei macchinari per le fermentazioni per gli impasti e ho iniziato a lavorare sempre di più con gli spazi a costruire la mia pagnotta la mia pagnotta ideale la mia pagnotta perfetta e ci abbiamo messo moltissimo e poi ho il lavoro sui grani antichi dal 2007 2008 lavoro la solina che è un grano tipico di è un grano antico di abruzzese oggi è bellissimo che tantissimi ristoranti ma si parla molto di questa solina quindi abbiamo recuperato queste vecchie varietà però abbiamo un grande problema con le vecchie varietà che sicuramente sono grani che identitari rappresentano un territorio hanno dei profumi diversi dai grani moderni però abbiamo un glutine molti dicono un basso glutine io vi dico invece il glutine c'è nelle vecchie varietà abbiamo un glutine diverso ha una maglia crea maglia glutinica diversa che cos'è la maglia glutinica la maglia glutinica è una una rete che si fa per con l'azione fisica o della mano della macchina quando il glutine e la farina con l'acqua inizia a muoversi si crea una maglia glutinica più il glutine è forte più si crea forza la maglia glutinica che vuol dire che più possibilità di incamerare acqua all'interno dell'impasto quindi c'è stato un passaggio del cambio d'uso dal grano antico al grano moderno quando il paese si è iniziato ad industrializzare il grano moderno è un grano che ha un glutine diverso ha un glutine molto forte permette di panificare e pastificare quindi pure la pasta incide pure sulla scelta la pasta aggiungendo molta acqua ma soprattutto velocizzando i processi di trasformazione quindi abbiamo una resa maggiore per l'industria e una resa maggiore per l'agricoltore pure perché il grano antico è un grano che ha una bassa resa sul campo e ha un grande problema che è l'allettamento del grano che vuol dire la spiga del grano antico è molto alta e le radice va molto in profondità quindi ha una capacità anche di nutrirsi di sali minerali diversi dai grani moderni che hanno una spiga così però l'allettamento vuol dire quando il grano è alto c'è un po' di vento crolla il grano quante volte si vedono queste vecchie foto di una volta o questi campi di grano dove sono allettati quindi la trebbia quando va a trebbiare non riesce a prendere tutto il grano quella terra quindi è stato quasi tutto eliminato questo grano antico e hanno e hanno iniziato le produzioni importanti dei grani moderni però io ho iniziato a rilavorare col grano antico ma perché stavo al ristorante al reale che comunque è un ristorante che mi permette anche di fare di avere costi molto più alti di fare molta ricerca e abbiamo e ho capito che il grano antico mi produceva un buon pane però mi mancava un elemento fondamentale di tutte le pagnotte che tutti di noi sicuramente abbiamo mangiato le pagnotte di una volta e continuiamo a mangiare la golosità cioè quando noi prendiamo queste pagnotte in mano di grani antichi e diciamo tutti che questo è il grano il pane come lo faceva mia nonna hanno un peso specifico pazzesco lo vedete che pesano tantissimo perché questo? proprio perché hanno un glutine diverso non riusciamo quando panifichiamo a incamerare acqua e quindi abbiamo molta farina e poca acqua quindi visivamente abbiamo la pagnotta ma il peso specifico è molto grande perché non c'è alveolatura dentro non c'è acqua che è molto più leggera e allora io ho detto la mia sfida è quella di riuscire a fare un pane con i grani antichi però che sia pure goloso allora ho iniziato a lavorare sull'inserimento dell'acqua siamo arrivati dopo tantissime prova quasi due anni a portare circa il 90% d'acqua sul chilo di farina sui grani antichi quindi un'umidità incredibile e la mollica diventa cremosa quindi ho il profumo le caratteristiche del grano antico ma soprattutto la gola però avevo un problema che dopo la cottura sul pietra di questo pane talmente era umido dentro che la crosta si dopo pochissimo si ammorbideva perché l'umidità interna andava verso l'esterno ammorbideva la crosta e quindi collassava quindi avevo risolto il problema gola però c'era il problema delle strutture un altro ingrediente fondamentale nella cucina che molto altro non ci viene oggi la struttura cambia completamente l'esperienza ma soprattutto la percezione di un gusto allora ho detto devo risolvere questo problema innanzitutto per arrivare a portare l'umidità così alta abbiamo lavorato con le curve di lievitazione tra caldo e freddo il nostro pane lievita circa 36 ore con curve da 4 gradi a 36 gradi in modo che non faccio collassare la pagnotta ho risolto questo problema abbattendo la pagnotta e poi rigenerandola abbattendo vuol dire lo congelo e poi la rigenero questo con temperature diverse e ho risolto il problema oggi il pane di casa donna è un pane congelato io devo dichiarare che il pane è congelato però è un pane congelato per migliorare il pane però facendo questo avevo creato intorno a questa pagnotta avevo risolto il problema principale del pane nel mondo e cioè la logistica del pane fresco cioè io abbattendo il pane potevo portarlo ovunque e dò la possibilità e dò la possibilità a chiunque di rigenerarlo con semplicissimo forno non tecnologico ed ottenere il pane che si mangia a casa donna quindi l'innovazione è stata che un pane che nasce a reale quindi un pane per un pane che è diventato portata nel mio ristorante quindi per me è il massimo riesco a standardizzarlo a fare con i grandi numeri da lì abbiamo creato un laboratorio pane a Castel di Sango col principio di un pane di un tre stelle tendo a specificarlo quindi un pane importante per fare grandi numeri ed è nato il laboratorio pane Allora Nico ha detto sempre ha usato il termine perché è un termine comune viene usato da tutti grano antico e grano moderno in realtà il grano non si chiama grano antico ma sono grani locali mentre tutto il resto è il grano industriale perché come ci ha spiegato Nico cosa fanno fanno crescere il grano basso per trebbiare chilometri immaginatevi il Canada migliaia di chilometri e vanno con queste tiebbiatrici e riducono il grano in questo stato quindi noi abbiamo tutti il problema del glutine delle intolleranze quindi quello è il grano moderno di cui parla Nico è il grano industriale il grano contenuto tenuto a quell'altezza per esigenze industriali il grano locale che esiste dalla notte dei tempi esiste ancora nei nostri luoghi se qualcuno lo coltiva e se qualcuno ha voglia di valorizzarlo come fa adesso Nico tra l'altro Nico mi ha dato altri due spunti lui deve dichiarare che il suo è pane congelato ma il suo pane è più fresco che mai perché quella è la tecnica per renderlo così quindi quanta strada c'è per noi consumatori sull'informazione quanto i food designer possono contribuire alla comunicazione quindi al dialogo io approfitto di Nico e di voi per dirvi che giovedì da Italy dove appunto era nato il primo spazio adesso non c'è più faremo un convivio sui grani con il più grande esperto di grani al mondo che è un israeliano e lo faremo perché quest'anno sono 70 anni di Israele quindi una grande festa molto importante e tutta la storia del popolo di Israele si basa sui sette grani questo convivio fa parte di un evento che è Gusto Koscher prego venga venga qua pare lo spot venga venga non è giovedì ma è venerdì è giovedì ma è venerdì allo IED mazza come sono informata quindi cancellate tutto vi aspetto tutti i miei ospiti mi metto in lista venerdì mattina alle 11 alle 11 IED via Alcamo convivio sui grani convegno sui grani con il massimo esperto di grani israeliani grazie a Fabiana Magri che giornalista mia grande amica che adesso vive a Tel Aviv oggi è venuta qui per questo Gusto Koscher che poi finirà domenica al ghetto anche lì siete invitati mi dispiace che tu stai in giro per il mondo sarebbe stato bellissimo averti perché parleremo di grano a tutto tondo quindi avremo anche gli agronomi avremo anche i mugnai abbiamo coinvolto l'associazione mugna italiana perché anche questo è food design cioè chiarire che i grani locali ci sono esistono possono essere supportati con idee come la tua che il grano moderno va evitato che va evitato la pasta industriale che vanno evitate le cose che fanno male alla nostra salute il principio di food design vogliamo chiudere con abbiamo due cose belle da dire volevo parlare di bulgari un pochino ma magari alla fine perché quella è un'altra deriva perché cosa conta nel food design che il food design si occupa di tutto questo esperire l'atto alimentare dalla fame nel mondo quindi dall'ospedale dall'intelligenza nutrizionale così come è pensata da Nicolomito ma in tanti altri contesti c'è un pensiero per esempio per recapitare il cibo nei paesi del terzo mondo dove le associazioni umanitarie vogliono aiutare per recapitare qualcosa dall'alto con un elicottero in una zona dove l'elicottero non può atterrare è evidente che ci vuole un progetto di food design per il packaging che mantenga il cibo intatto al momento dell'impatto che mantenga la temperatura quindi ma si arriva fino alla gourmandise che è fino al grande lusso degli hotel nei quali vedi com'è bello il grano locale allora parliamo di street food perché siamo tutti esseri umani urbani e viviamo la nostra vita nelle grandi città non possiamo vivere a casa donna anche se ci piacerebbe tantissimo e quindi tu cosa ti sei inventato? no io non mi sono inventato niente la bomba è qualcosa che esiste io sono nato nelle bombe e mio padre aveva una pasticceria era molto molto famoso per queste bombe sono delle paste lievitate fritte me la levo? la levo vero? e allora abbiamo creato un un modello di cibo da strada dedicato a tutto su monoprodotto bomba la novità le novità sono due rispetto al prodotto tradizionale innanzitutto abbiamo siamo intervenuti nella creatività facendo diventarla la bomba la facciamo diventare anche salata forse c'è la foto della bomba salata però così li uccidiamo tra l'altro è buonissima la bomba salata quindi con vari ripieni gastronomici e la seconda novità è riuscire a fare in modo che questa bomba fosse uguale in tutte le le varie aperture che si dovranno fare e che stiamo facendo quindi lì c'è stato un progetto importante di industrializzazione del ma anche interessante la pausa pranzo perché il nostro cruccio della pausa pranzo è abbastanza oneroso abbiamo ogni giorno cosa dobbiamo mangiare c'è chi è molto fortunato e vive in un luogo dove puoi entrare a casa chi come noi è in giro ecco se foste a Milano avreste l'opportunità di mangiare al volo questa bomba salata ma c'è anche un piccolo menù pensato ad hoc quindi nella tempistica anche nelle calorie che vai ad ingerire però senza rinunciare al gusto perché noi fino adesso non l'abbiamo mai nominato non abbiamo mai pronunciato la parola gusto ma il gusto è tutto il gusto è l'inizio e la fine del momento in cui noi ci sediamo a tavola oppure siamo costretti in piedi a mangiare quindi c'è anche un pensiero di come viene somministrata questa questa bomba il vassoio la carta l'abbinamento con il bicchiere di vino il piccolo menù c'è anche il caffè diciamo che è un'esperienza interessante a tutto tondo che si può fare in pochi minuti che delizia palato e anima sì e poi come dicevo nel punto vendita non c'è non c'è la cottura della bomba ce ne abbiamo creato un un'azienda ci abbiamo creato abbiamo crea cuociamo e produciamo le bombe in un luogo industriale con la stessa ricetta anzi migliorando la ricetta tradizionale io ho tolto dalla ricetta tradizionale che prevedeva una massa grassa animale o burro strutto noi abbiamo completamente tolto sia il quindi il burro il burro animale e abbiamo fatto un'emulsione stabile di olio d'oliva e burro di cacao e questo è quello che dico io credo che oggi il cuoco moderno deve dialogare con l'industria perché mi posso garantire che l'industria ha una serie di tecnologie ha una serie di risorse economiche ha una serie di ha delle possibilità incredibili per migliorare la qualità finale e non lo fanno perché non lo sanno fare e hanno le attrezzature io ho fatto consulenza ma senza dichiararla ma l'ho fatta perché volevo conoscere questo mondo un'azienda che produce succhi surgelati un'azienda importante è una multinazionale americana e loro producono in Italia il succo che poi andrà nel mercato americano loro hanno una tecnologia che quando l'ho vista ho capito cioè cose che io ho a reale ma in piccolo loro riescono a farle per numeri incredibili ma non la utilizzano perché hanno ancora le ricette degli anni 80 quindi la matriciana come si fa su gelata e si mette la pentola voi immaginate tutto in grande pentola olio soffritto quello e si fa questa matriciana quando siamo intervenuti nel processo e abbiamo modificato i grassi abbiamo modificato il tipo di tostatura abbiamo fatto in modo che il pomodoro non entra all'inizio ma entra dopo in modo che il concetto dell'ossidazione di prima con la stessa con gli stessi ingredienti abbiamo completamente migliorato la ricetta e quella ricetta oggi che in America si mangia quella ricetta lì in questo momento quella ricetta lì e quell'applicazione su quella ricetta su quella scala che è loro di produzione stiamo parlando di centinaia migliaia quantità di salsa al pomodoro alla matriciana che in America si mangia con la surgelazione che la surgelazione è il discorso food design comunicazione è stata sempre comunicata male oggi se io dico ancora vi faccio un esempio se noi andiamo al supermercato vediamo una scaffalatura con tutta la conserve di pomodoro con tutti i bellissimi packaging con la fattoria disegnata con la mamma che fa il pomodoro e dall'altro lato abbiamo un freezer dove abbiamo queste pasticche di pomodoro in busta pure con il packaging su 100 clienti 95 comprano quella e pochissimi comprano quello surgelato io vi dico che è cento volte meglio comprare quello surgelato ma perché? per fare il pomodoro io devo prendere il pomodoro pure uso il miglior pomodoro del mondo uso la miglior metodo del mondo comunque a un certo punto devo mettere il pomodoro in barattolo dopo ho messo in barattolo devo fare come minimo la pastorizzazione per essere tranquillo devo sterilizzare quindi sterilizzando vuol dire andare ad ammazzare tutta una serie di contenuti nutrizionali presenti nel pomodoro con la surgelazione che cosa faccio io? e io l'ho visto fare in questa azienda ed è esteticamente impressiona un po' vedere le pasticche di pomodoro però il pomodoro con la stessa qualità io lo cuocio dopodiché passa viene diviso in pasticche con queste macchine ripassa in un tunnel ad azoto a meno 200 in pochi istanti diventa surgelato pasticca quel pomodoro io non l'ho pastorizzato quel pomodoro è superiore sia come ossidazione e qualità nutrizionale rispetto al pomodoro però non c'è la cultura di comprare il pomodoro surgelato e così noi abbiamo e tutti i sughi si possono fare con questo modo e l'unico metodo che chi lo può fare è l'industria però per intervenire al processo creativo migliorativo ci deve essere il cuoco un cuoco che ha un'idea una visione anche di intervenire in questo tipo di relazioni con l'industria ecco secondo me il cuoco moderno oggi dialogando con un'industria seria che lavora in maniera etica può migliorare la qualità del consumatore finale è fondamentale allora rapidamente solo volevo far vedere al volo le slide alt sarebbe bello però un'altra volta un'altra volta facciamo una cosa su alt e rapidamente di di bulgari solo due parole e poi leggiamo insieme il manifesto del food design e chiudiamo ok bulgari bulgari nasce è un progetto che nasce due anni fa e ad agosto abbiamo aperto il quarto ristorante a milano firmato bulgari nico rumito il progetto nasce la prima apertura a a pechino poi a dubai poi a shanghai e poi a a milano che cos'è il ristorante nico rumito all'interno di bulgari innanzitutto è un modello è un menù uguale in tutto il mondo tranne dove abbiamo delle restrizioni religiose e delle differenze climatiche voi immaginate abbiamo un periodo che a dubai è più 30 a pechino è meno 20 posso romperti oggi non sono restrizioni quelle religiose ma sono solo delle regole sì nel senso a te sembrano però dove abbiamo delle regole da rispettare perché noi stiamo combattendo con gusto kosher per spiegare al mondo che le religioni non chiudono la prospettiva noi possiamo mangiare il cibo kasher o kosher come volete nominarlo quelle sono solo delle regole che lo imbrigliano per un rispetto religioso ma restano danno comunque la possibilità di esprimere quella tradizione quindi noi possiamo accedere ovvio tu non puoi fare tutto quello che vorresti fare quindi ci sono dei paletti sono restrizioni per te ma non per chi poi fruirà ma io parlavo della costruzione del menù e sul modello di questo menù e della cucina italiana quindi abbiamo deciso di fare il menù uguale in tutto il mondo abbiamo deciso di di dedicarci inizialmente ai grandi classici della cucina italiana quindi i piatti antologici ma mia che meraviglia perché uno pensa molte volte noi pensiamo che la nostra cucina è conosciuta nel mondo invece sì è conosciuta tantissimo ma con dei piatti che non ci rappresentano ricordo poco tempo fa a Pechino c'era un incontro con la stampa e loro mi avevano detto se avevo provato dei ristoranti a Pechino italiani io avevo provato il migliore e non non c'entrava niente con la cucina italiana dove perché c'era uno cioè in tanti ristoranti nel mondo la scuola francese è sempre la più forte c'è questo utilizzo di fondi di salse di riduzioni e quindi devo dire che loro veramente i francesi hanno lavorato in maniera incredibile ed è stato per tanti anni il riferimento della cucina mondiale quindi la grande scuola francese è presente anche in tanti ristoranti che dicono che fanno cucina italiana e ricordo in questo ristorante c'era questo utilizzo esagerato di burro di salsi al latte e allora loro mi domandano sì li ho provati senza farlo non mi ho detto però secondo me non c'è e non capivano il motivo perché gli spiegavi i concetti della cucina italiana allora per fargli capire ho fatto un esempio ho detto ma voi avete mai mangiato in un ristorante cinese in Italia e c'era una persona ha detto sì non c'entra niente ho detto è la stessa cosa e quindi il lavoro grande che vogliamo fare con Burger le stiamo facendo poi abbiamo avuto un riconoscimento che è molto importante noi abbiamo preso la prima stella Michelin come cucina italiana sciangata a due mesi dall'apertura ed è stata veramente una grande forza per il progetto eppure a Pechino i primi mesi i clienti si sedevano non apprezzavano quella cucina mi ricordo pure con il pane loro mangiavano solo la mollica del pane non mangiavano la grossa perché dicevano che era troppo croccante troppo dura perché loro comunque sono abituati a dei pani cotti a vapore dei pani molto più morbidi oggi devo dire invece questo poi non abbiamo non abbiamo voluto assolutamente cercare il compromesso commerciale ma abbiamo tenuto forte l'idea di questa cucina fatta in quel modo con quei principi e oggi Pechino è diventato dopo un anno è diventato per le persone che vivono lì ma anche per un riferimento loro che non è in Italia è TripAdvisor TripAdvisor per il cinese è un riferimento importante non c'è critica non c'è guida soprattutto sulla città di Pechino e oggi siamo diventati il ristorante più importante come cucina italiana della città e questo modello è l'unico modello secondo me possibile per portare la cucina italiana nel mondo se poi pensiamo ai francesi al modello Alain Ducasse al modello Gero Bouchon loro hanno standardizzato il processo il purè di patate che Gero Bouchon faceva al suo primo atelier a Parigi lo troviamo a Hong Kong lo troviamo a Tokyo quindi io non mi sono inventato niente io soltanto ho cercato di prendere la cucina italiana vista da me resa più moderna resa più fruibile anche dal punto di vista salutare più alleggerita e standardizzarla e portarla in giro ovunque ma vi posso garantire è più difficile di fare cucina creativa nelle singole realtà perché standardizzare un processo a migliaia di chilometri da casa con prodotti diversi con persone diverse e con culture diverse è molto difficile quindi il food design si occupa di progetto in campo alimentare il food design è una specifica area del progetto che si propone di produrre soluzioni efficaci per la fruibilità del cibo in precisi contesti e situazioni il food design si propone di dare forma alle interfacce e ai servizi nel modo più adeguato alle circostanze in cui il prodotto viene consumato la producibilità e la serialità di un prodotto o di un servizio sono le condizioni per le quali un progetto può definirsi di food design e mi sembra che fino a qui Nico suo malgrado rispetti tutte le regole i principali criteri ai quali un prodotto edibile di food design deve sottostare sono vero Sonia? la forzionabilità la modularità e formato adeguati al contesto e agli strumenti con i quali verrà consumato non abbiamo parlato delle posate un'altra volta un progetto di food design è realizzato per offrire un servizio a una o più persone ricordate la comunità che manifestino determinati bisogni o per rendere più efficace un'azione legata al cibo attraverso uno strumento derivato dal progetto food design design significa progettare secondo le modalità tipiche del design che ben oltre la ricerca puramente formale o decorativa implicano la ricerca per l'innovazione dei processi di produzione distribuzione e consumo il discorso che ci faceva Nico sulle tecnologie e sul fatto che lui alla fine all'ospedale gli ha detto va bene ma vi smonto la cucina e ne costruiamo una completamente nuova il food design è uno strumento privilegiato e particolarmente efficace per la riqualificazione e la promozione del territorio attraverso la sua ricchezza enogastronomica i progetti di food design migliorano i luoghi in cui avvengono il progetto di food design per le sue peculiarità legate alla nutrizione può rientrare nell'area del social design e contemplare collaborazioni con enti e associazioni no profit un prodotto di food design viene studiato con l'unico l'unico scopo di generare benefici al suo utente tutto il processo deve interagire per impedire che l'utente sia esposto a rischi derivati da cattiva progettazione o dalla non adeguata attenzione alle norme di conservazione alla tecnologia produttiva all'ergonomia e alla microbiologia legata agli alimenti non vi leggo l'undicesimo punto del manifesto perché vi invito ad andare su fooddesignmanifesto.org sottoscrivere il manifesto e scoprire che le persone più importanti per noi oggi sono i bambini grazie a Nico Romito a Domitilla al Maxi e a tutti voi allora io ringrazio voi assolutamente ringrazio Nerina e Nico per essere stati con noi ho imparato tantissime cose tre fondamentali la prima che se mi ammalo devo farmi ricoverare al Cristo Re la seconda è una conferma di una cosa che ho sempre sostenuto e cioè che i surgelati sono fantastici risolvono la vita quindi sono molto molto contenta la terza anche quella è una conferma io non ho nessun elemento per esprimermi sulla cucina di Nico Romito se non il piacere del cibo ma posso dire con quel poco di competenza acquisita in qualche anno che Nico Romito è davvero un grande designer perché ha proprio l'attitudine e la visione a 360 gradi che serve ai grandi designer quindi grazie davvero per essere stato con noi grazie a Nerina per avercelo portato e per essere stata la nostra guida in tutto questo grazie 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 grazie